fratelli bianconeri e non buonasera a tutti voi allora visto che non sono riuscito a farlo nella live lo faccio adesso per farvi una raccomandazione una raccomandazione molto importante ho fatto un video oggi dove parlavo chiaramente delle non lotte di potere da parte mia a me non interessano quindi io quando siete in live con me e ci sono gli idioti di turno vorrei e vi chiedo cortesemente di non nominarli e non rispondergli ma non lo volete capire che questa gente lo fanno apposta per avere visualizzazioni non lo volete capire questa gente chiunque sia che vengono nelle tue live offendono bestemmiano non lo capite che quando voi li nominate gli fate un favore non lo volete capire a me sulle mie live voi dovete far finta che questa gente non ci sia ci penso io voi non li dovete calcolare altrimenti ragazzi arriviamo un punto che demon le live non le fa più perché io in una live mi voglio divertire e mi stavo divertendo se voi continuate a bla 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 con questa gente dai e leggi ho letto 20 messaggi ma perché non te ne vai dovete capire che a questa gente gli fate un favore a nominarli dovete fare gli indifferenti lo capite o non lo capite perlomeno sul mio canale poi se volete andare su altri canali e fare quello che vi pare a voi lo fate ma non lo fate sul mio ve lo chiedo per cortesia quindi quando io entro in funzione con la live voi parlate con me quando ci sono gli imbecilli di turno chi siano se è vero che ha due account che usa lo stesso profilo se è vero che non me ne frega niente di chi sia io sono persone che non conosco che non voglio averci niente a che fare con questi imbecilli qui non voglio abbassarmi a parlare di questi perché più ne parlate e più gli date credito a sta gente loro lo fanno apposta per attirare l'attenzione non lo volete capire ve le devo spiegare io non siete intelligenti a sufficienza per arrivarci allora se io nella live vi chiedo di non rispondergli non rispondetegli perché altrimenti da oggi in poi faccio come stasera chiudo la live questi personaggi che hanno non so quanti scritti hanno quante visualizzazioni non mi interessa non so chi sono non me ne frega niente neanche di sapere chi sono vengono nelle tue live per andare a cercare attenzione voi questi personaggi probabilmente li conoscete io non li conosco perché non li seguo perché uno che viene nel mio canale e mi offende così mi manca di rispetto mi bestemmia scrive le bestemmie che persona volete che sia uno che scrive una bestemmia ma non vi rendete conto volete dar credito a questa gente qui ve lo chiedo per cortesia sul mio canale non lo fate ci penso io a segnalarlo non vi preoccupate se lo volete segnalare anche voi mi fa piacere però lo segnalate in silenzio in silenzio lo segnalate risolviamo il problema ok ma se io mi devo fare una live per stare in compagnia con voi e devo sentire quelli ma vattene via ma non hai stancato ma non hai di meglio da fare ma durante tutta la live ma basta riempite la live di tutti i messaggi in chat che certe volte mi viene anche da leggerli perché penso siano domande allora da oggi in poi mi fate questa gentile cortesia voi nella live non rispondetegli ci penso io chiaro per tutti questo che sia ben chiaro ci penso io voi non vi dovete preoccupare voi dovete farmi le domande che ritenete più opportune fare ci divertiamo stiamo insieme perché ve l'ho detto e ve lo ripeto queste persone vengono nei canali degli altri a dar fastidio perché cercano attenzione perché se no non se li fila nessuno quindi non voglio entrare a far guerre su youtube sono spiegato quindi per cortesia fate ciò che vi chiedo grazie altrimenti tutte le volte io comincio la live e la interrompo come stasera stasera saremo andati avanti un'altra ora visto tra l'altro che era anche una live non non voluta è stata che è stata casuale era si era fatta bellissima e vi siete fatti in finocchiare da un imbecille che è arrivato che scrive due sciocchezze e smetti e dai e continui vi ho detto di non rispondergli e non ve lo dico più altrimenti non faccio più le live ciao a tutti